Salve a tutti amici collezionisti e bentornati sul mio canale. Prima di cominciare la recensione di oggi volevo spendere due minuti per ringraziare tutti quelli che mi seguono, i nuovi iscritti e quelli un po' più vecchi. Per avermi fatto raggiungere uno dei primi obiettivi è quello dei 500 iscritti, quindi grazie mille a tutti. La recensione di oggi vede protagonisti i due acerimi nemici ormai da secoli. Sto parlando di Tom & Jerry della marca Iron Studios. Una statua davvero favolosa che magari in foto non rende ma dal vivo è stupenda. Sarà anche per i suoi tratti cartuneschi ma ha davvero dei particolari stupendi. Vi lascio all'unboxing e al video di questa recensione e vi do l'appuntamento come sempre al prossimo video. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!